Questo libro di aforismi dal titolo Una virgola per pensare di Donato di Poce, tra i maggiori poeti e aforisti contemporanei, tradotto anche in spagnolo e rumeno, è un diamante etico-linguistico ma anche un vaso che tracima filosofia, poesia, ironia. È una dannazione del presente che ama e vede il futuro, un minimalismo linguistico che trabocca poesia e orizzonti filosofici. In copertina opera di Max Marra